Allora, non c'è più mondo, non c'è più religione, non può essere che uno sta facendo un bastezzo così passano qua le sacerdotesse, le otalische, poi arrivano i demoni, attacchi, i combattimenti basta, quindi omelette, sto giro, niente, la storia dell'amo è del principale e ve la racconto un'altra cosa Allora, qua c'è la Sacra Sangria Meno male che c'è l'esorcista Grazie, io sono un esorcista Ci è venuto a trovare il Capitano Barbanegra, il diacono di Drapani e ci darà una mano in questo sacco di pastezzo Facciamo vedere la Sacra Sangria bene In quanto c'è la Sacra Sangria, si vede? Ok, ora procediamo a pastezzo Allora, quindi, in quanto da quella parte, vengono avanti i fedeli Quindici uomini, quindici uomini Sulla rassa del morto Ma fermati Jopupon Authority E una bottiglia di rum Oggi ormè? Ok, fate veramente schifo Ma va benissimo L'ho detto, fermatevi per il nuove questione tecnica Non date troppo una linguразу Allora, Capitano Barbanegra che cazzo? non se le pò più basta basta allora posso dire a riprendere c'è gente che mi sento alla stazione e quindi porca miseria allora facciamo ricontilliamo allora dicevamo che cazzo? ma vabbè non fai niente questa è la manifestazione del sacro spaghetto non la toccare va bene senti e riprendi guarda la guaggiatura che stanno facendo un casino allora quindi capitano Manolo siamo qui per se ha di voi sedere e fare i giusti di riprese veloci allora i fedeli vengono avanti e passano dietro al diacolo ci sei tu guarda Manolo dillo il guaglio è giusto fa l'inquaggiatore e che manco del buono vai capitano Manolo vengono le levate dalle palle porta vengono su calo dai fermo tutto che si zacqua lì allora avanti forse un altro fermo tu sei stato passeggiato aspetta un attimo allora com'è il tuo nome di battaglia capitano Alcruzzo bravo 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 vengono vengono un altro com'è il tuo nome di battaglia capitano Alcruzzo capitano Alcruzzo bravo cazzo cellulare avanti qual'è il tuo nome di battaglia capitano Jägermeister Jägermeister bravo bravo andiamo ok rimane a rivederci e un pocello bravo eeeh 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 eeeh